La Pergine La protezione civile è sempre accanto a ogni abitante del nostro territorio per prendersene cura delle persone, degli animali e del territorio in caso di emergenza e in caso di disastro, ma la protezione di per sé non è mai e non sarà mai sufficiente perché serve anche la prevenzione. Quindi così come abbiamo ben imparato per la cura dei nostri corpi a fare prevenzione oltre che a ricorrere alle cure mediche, altrettanto dobbiamo fare in caso di cura del territorio e cura delle nostre città. Serve prevenzione. La Pergine Grazie